Comunicazioni fra qua e i vari componenti della squadra che saranno in giro e passeranno per la ricerca. Ok, quindi cosa state montando? Stiamo montando l'antenna che ci permette di avere le comunicazioni da qui a tutti i vari membri che ci sono in giro per la ricerca. Speriamo anche un ponte radio con la nostra sezione che è in via Parini per l'eventualità di comunicazione che non riusciamo a fare.